Una storia di assistenza ai più anziani e bisognosi che dura da oltre un secolo e che non può finire nel fango. Lo reclamano a gran voce dipendenti, ex lavoratori e parenti di assistiti della RSA Opere Pieri Unite Bilanzuoli di Minervino Murge, scisi ieri pomeriggio in piazza per lanciare un messaggio chiaro alla regione, giù le mani dal nostro centro per anziani. La residenza minervinese è stata travolta dall'emergenza epidemica, con lo scoppio di un focolaio che ha determinato il contagio di oltre 40 persone tra operatori ed ospiti. La ASLBT ha presentato un esposto in cui denuncia gravi carenze organizzative ed assistenziali, casi di anziani disidratati e con piaghe da decubito, cartelle cliniche introvabili. La regione ha avviato un procedimento di chiusura della RSA e i gestori della realtà ecclesiale hanno ancora pochi giorni per presentare delle contradduzioni. Nel frattempo, un movimento pacifico di protesta animato dalla comunità minervinese chiede che la residenza continui ad operare con la professionalità che ha sempre dimostrato. La sopravvenuta notizia del decesso della 99enne, ex ospite della RSA, guarita dal coronavirus e trasferita al Donuva di Biceglie, ha reso ancora più impopolare la decisione della regione. A parlare, l'organizzatrice della manifestazione, Anna Tancorra, insieme alle infermire della struttura e parenti degli anziani ospiti, questi ultimi trasferiti in altri presidi sanitari. Noi non abbiamo mai sentito che questa comunità avesse reso un servizio non più che ottimo e poi siamo qua per un altro motivo. Alcuni ospiti sono stati colpiti dal covid, sono stati ricoverati, hanno superato, adesso sono negativi. Non riescono a ritornare qui a Minervino, in quella casa, che loro chiamavano casa, perché alcuni non hanno famiglia, quella era la casa. E sapete che un anziano che resta per tanto tempo in ospedale si ammala. Alcuni anziani avevano superato il virus, però sono morti. Ed ecco che noi non vorremmo piangerne altri, noi vogliamo dare voce a queste persone che non ce l'hanno e le vorremmo vedere qui tra noi. Siamo una famiglia e siamo un tutt'uno, per cui adesso noi ci sentiamo molto sconfortati da questa decisione, perché abbiamo cercato di dare il massimo, la nostra struttura è stata sempre impeccabile. Appunto, come diceva prima, si è guadagnato il rispetto in tanti anni e più di un secolo che questa struttura ha questa importanza, per cui non vedo veramente il motivo per il quale dovrebbero chiudere una struttura così rinomata e così bella quale è la nostra. È venuto anche l'infettivologo dell'ospedale di Biceglie a controllare gli anziani e lui ha dato anche disposizioni terapeutiche da seguire in questo caso e noi abbiamo seguito alla lettera. I nostri anziani a distanza di una settimana, anche se positivi, li abbiamo rimessi in carrozzina, si sono alimentati, confrullati. Tutto ciò che aveva acqua gel, addensante, venivano seguiti continuamente senza sosta. In ospedale mio padre ha fatto le piaghe da decupido. Quando è rientrato nell'RSSA me l'hanno salvato, me l'hanno salvato. All'incontro pubblico svoltosi davanti a Palazzo di Città non ha preso parte il sindaco Maria Laura Mancini, circostanza che ha indispettito non poco i manifestanti, amareggiati anche dall'intervento dei carabinieri che ha posto fine anzitempo alla pacifica protesta. Nelle prossime 48 ore si procederà ad una raccolta firme per sottoscrivere una petizione da inviare in regione, con la speranza che la riapertura della RSA non dipenda da sotterranei giochi di potere. Io francamente penso, senza avere nessuna prova, che forse c'è qualche manovra di qualche altra struttura per frecarsi i posti convenzionati con la regione. Ci può essere qualcuno che approfitta, sto a approfittare del Covid per far chiudere Minervino e avere posti in altre strutture.